E' tutto risolto per ora. Quindi feci questo cross da destra, molto bello, quindi a scavalcare l'avversario, io mi infilai da dietro, lo stoppai di sinistro, poi destrano destro in modo morbido, quindi la incrociai facendo anche un bel gol, tanto che anche io mi sono meravigliato sinceramente perché non erano colpi miei così tecnici, però ogni tanto mi venivano e mi è venuto gol del, quindi maggior soddisfazione. Si riconosce Proasca che lancia dalla tre quarti sul secondo palo, dove c'è non esattamente un animale da gol, ma un mediano campione del mondo come l'Ele Oriali, che però trova la capacità tecnica e la freddezza per stoppare di sinistro e anticipare l'uscita del portiere con un tocco di esterno destro sul secondo palo.